L'incontro con Luca S'avvicina Soleil Sorghe, effusioni al concerto con Marco Cartasegna Soleil Sorghe, effusioni al concerto con Marco, l'incontro con Luca S'avvicina. Sembra passato un secolo da quando Luca Onestini e Soleil Sorghe si promettevano amore. Eppure, non sono cent'anni, ma solo una manciata di settimane. Fatto sta che da allora di cose ne sono cambiate, l'italo-americana si è messa con Marco Cartasegna, mentre Onestini viaggia verso la finale del grande fratello Vip, dichiarandosi sereno e tranquillo dopo la burrasca sentimentale. Nel frattempo Soleil e il suo nuovo compagno stanno vivendo una bella storia d'amore. Solo poche ore fa, ad esempio, i due sono andati assieme al forum di Assago per assistere al concerto del maestro Ennio Morricone, rendendosi protagonisti di un siparietto simpatico e affettuoso. . Ma per l'ex corteggiatrice incumbe anche l'incontro-scontro con l'ex. Andiamo a scoprire tutto. Marco e Soleil uniti al concerto, intanto sale l'attesa per l'incontro tra la Sorghe e Onestini. Soleil e Marco si sono resi protagonisti di alcune Instagram Stories dove hanno mostrato ai fan stralci della loro presenza al concerto di Morricone, con tanto di scherzetti e gesti affettuosi. . Il nuovo amore sembra procedere a gonfie vele e sembra farsi sempre più solido. . Tuttavia, a breve, la Sorghe dovrà con ogni probabilità fare un passo nel suo passato. . Luca Onestini, infatti, la settimana prossima farà ritorno al mondo reale dopo l'esperienza al grande fratello Vip ed è atteso un incontro tra i due ex. . Il bolognese ha dichiarato diverse volte di voler chiarire con la ragazza con cui si è creato un rapporto ostile. . E pensare che scorreva amore fino a due mesi fa e. . Luca e Soleil, i possibili scenari dopo il GF Vip. . Quali sono i possibili scenari tra Luca e Soleil dopo che Onestini lascerà la casa più spiata d'Italia? Tra i due ci potrebbe essere un incontro chiarificatore a porte chiuse, lontano dalle telecamere. . Oppure chissà che l'ex coppia possa accettare un confronto in qualche trasmissione tv, magari da Barbarella Nazionale. . Non ha da escludere, tuttavia, che la storia termini definitivamente senza alcun chiarimento, anche se sembra difficile. . . Troppi interrogativi devono ancora essere sciolti sull'affaire sentimentale dei sorgestini. . 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 Grazie a tutti.